Microsoft ha rilasciato un nuovo programma per Windows 10 e una nuova app per Android chiamata Bing Wallpaper. Come è intuibile dal nome, cambierà lo sfondo ogni giorno attraverso l'omonimo motore di ricerca. Guardiamo su Windows. Per scaricare l'exe collegatevi alla pagina di Windows Blog Italia che lascio in descrizione. In questo momento purtroppo non è ancora disponibile un'app sul Microsoft Store. Il setup è minimale. Come unica opzione abbiamo quella di far impostare Bing come motore di ricerca predefinito. Attendiamo qualche secondo, peserà pochissimo, all'incirca 3,50 MB ed ecco lo sfondo della giornata. Per avere un controllo, magari per cambiare l'immagine, accedete al menu che si apre nella System Tray. Inoltre ci sono altre voci come l'opzione per consentire l'aggiornamento ogni giorno, quella che apre la ricerca, quella che informa riguardo il programma. Su Android, situazione simile per quanto riguarda il download sul Play Store italiano, ancora non è disponibile l'app, ma la si può provare scaricando l'app IPK dal link presente nell'articolo di Wubi. Lo trovate come sempre in descrizione. Pesa soltanto 4,16 MB. Occorre la versione 8, ovvero Reo. È un po' più completa rispetto alla controparte Windows. C'è ad esempio la possibilità di impostare lo sfondo sia per la schermata di blocco sia per la home. Inoltre c'è una descrizione dell'immagine. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se eventualmente la provate, noi ci vediamo ad un prossimo video.